La fiera natalizia si farà. Dopo le preoccupazioni per la durata dei lavori che hanno costretto la chiusura al transito della gettonatissima via dei pastori, negozianti ed artigiani possono tirare un sospiro di sollievo. Il 29 la strada riapre. Riapre con un cantiere ancora aperto all'interno dell'edificio, però un cantiere che non porterà via se non 20 cm da un lato e 20 cm dall'altro, per cui il flusso è garantito. L'assessore Anna Donati assicura per sabato il ridimensionamento del cantiere che dal 12 ottobre scorso impedisce l'accesso a San Gregorio Armeno a causa degli interventi di messa in sicurezza avviati su un edificio secentesco pericolato. Da questo weekend via libera dunque al transito pedonale nella storica fiera dei pastori, l'amministrazione invece è ancora al lavoro per offrire una sistemazione a quei negozianti ancora penalizzati dal cantiere. Dovremmo discutere insieme all'assessore Narducci e all'assessore Sposito insieme, cioè quelle sei bancarelle che non potranno stare più dove stavano a causa del cantiere, dove vengono ricollocate naturalmente nello stesso territorio.